A voi tutti cari amici di Meteo Giuliacci, questo weekend si aprirà all'insegno di una nuova eruzioncina di aria fredda, però al nord la situazione sarà piuttosto tranquilla, con cielo sereno o poco nuvoloso, sull'Emilia Romagna al primo mattino ancora qualche piovasco o qualche fiocco fino a quote collinari. Però, guardate, le precipitazioni maggiori saranno lungo il versante adriatico, al mattino potende a migliorare, il versante adriatico centro-meridionale, zone appenniniche confioccate mediamente inizialmente oltre i 1000-1200 metri potenderà a calare la quota neve, proprio perché affluirà aria più fredda e guardate il tempo peggiore, insomma, sulle regioni centro-meridionali, da prima centrali e poi appunto meridionali, ne escludiamo anche qualche fenomeno temporalesco, quindi con delle piogge si inverso la Calabria, e poi la Sicilia, un po' più tranquillo sulla Sardegna. Temperature che caleranno un po' ovunque, al centro e al sud, soprattutto nella seconda parte del giorno. Per il momento mi fermo qui, buon nuovo assaggio invernale, arrivederci!